Ieri parlavano anche gli altri combi degli oggetti interessati soltanto allo stile della Merini perché pensate che, forse l'avete vista, se non avessimo la fotografia della Merini che mi ha dato la sua collana, sempre, però non era fatta l'attività perché finalmente è un attività presto, sente che la Merini mi ha chiamato e si sente, vieni subito a casa mia, mi abita a Cordetta, che è uguale a una fotografia nusa allora sono rimasto un po' che c'è la tavola, non c'è l'età, no, vieni subito a due giorni e l'è andato, l'ha portata a non mangiare fuori, poi per un merito, l'ha portata in casa c'era una luce bellissima e l'ha fatto questa fotografia, mezzo busto, nuda e lei ha detto che ha avuto questa foto per due motivi il motivo è perché la gente attrezza il mondo giovane, si scandalizza per il mondo delle persone iniziali questo non è una cosa giusta, e poi perché tuttora lei si sente nuda l'hanno spogliata, l'hanno venuta all'ospedale, però questa nuda è rimasta attaccata ad ossa quindi come atto di contestazione ho voluto fare questa fotografia nuda